salve a tutti ragazzi bentornati su farming simulator 19 oggi siamo sulla mappa italia vi ricordo sempre iscrivervi al canale ragazzi supportati mi iscrivetevi se non siete già iscritti e lasciate sempre un bel pollicione all'insù ragazzi scusate senza usciti video qualche giorno tra ferie e feste purtroppo sono feste anche per me com'è andato a voi ferragosto tutto bene allora raga è notte qua quindi conviene passare la giornata successiva ci svegliamo presto alle 7 che oggi ragazzi dedichiamo al il biocast 166 mila euro ci dedichiamo oggi alla congimazione raga quindi alla sarà una giornata di cacca allora innanzitutto guardiamo un po gli operati avevo già rimessi a lavorare questa è è da scaricare dove sta vediamo i camions camions allora questo è successo un macello questo è da scaricare tutto è da scaricare andiamo a scaricare prima questa qua raga la storia è lunga qua ci vale un sacco di tempo con le carote carote patate barbabietole ci vale un sacco di tempo a raccoglierle quando questo è pieno è un sacco di tempo a raccoglierle quando questo è un sacco di tempo a raccoglierle quando facciamo un secondo momento ok allora andiamo un buon attimino questo rimettiamo a faccia verba con la gaspardo eccolo qua il camion andiamo a scaricare 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 quindi io adesso ce l'ho impegnato quello più potente prendiamo i barbabietole ciao questo da 20.000 160 cavalli facciamo questo qua più piccolino dai noleggia ok quindi andiamo di vaschieri quando gli mettiamo questo a lavorare allora eccolo qua raga questo qua è il caricatore quindi ci serve andiamo dove sta? dove sta? 180 il 180 ecco qua ecco qua il nostro vaschieri qua ok perfetto andiamo a mettere qua intanto volevo restituire un po' di plastico raga così stiamo a posto no a posto no però un bel po' lo restituiamo no chiedi restituisci che cacchio faccio c'è una montagna di debito piano piano lo leviamo raga allora non ci lasciamo 10 mila euro ci rilasciamo quindi sono rimasti 370 mila euro quindi andiamo un attimino qua ancora raga non ho preso tanto la mano ancora ci vuole un po' per prendere la mano con questo perché ecco qua bello caricato questo però eh un po' più realistico come è un po' difficile da manovrare aspettiamo un attimino se io mi metto un po' più un po' più sotto forse meglio vai vai con la cacca è un po' più Grazie a tutti. 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 Quasi ribaltati. Adesso ci andiamo a congivare il campo dove ci sono i tirasoli. Grazie a tutti. Io qua un pezzo già l'avevo fatto. Buongiorno. Andiamo a congivare il campo. E' un po' di giù. Grazie a tutti. 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 Sto sbagliando, non so a voi ma ci sto sbagliando io. Vediamo che finirà sto caldo troppo, no? Ancora sto cane. Sempre quando registro ti abbaiavo in un pazzo. Allora, dovrai tornare con le belle giornate fresche. Allora, la palacomera è la palacomera è la palacomera. Allora, sta forza qua, non so se prende pure la cacchetta. Metteremo un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 la prendo. faccio vedere che ci vuole con questa non l'avevo mai provato quel caricatore ho detto o lo porto è bello fatto bene però però ho preso il palo è sempre meglio la pala gommata si fa prima abbiamo questa bestia di pala gommata usiamo questa l'arrago Grazie a tutti. Andiamo a vendere questa lana. Andiamo. Proviamo questo. Liviamo questo qua. Andiamo. 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 Andiamo a diritto. Andiamo. 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 Allora. Allora. Andiamo.